Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Come vi anticipavo ieri sono in ritardo con i contenuti delle partite del weekend, sono stato infatti via in questi giorni a recuperare un po' dei giorni che ho saltato quest'estate per via della mia frattura, ieri vi ho parlato di Bari contro Catanzaro che avevano giocato venerdì sera, oggi vi parlo di Suttirol-Pisa che hanno giocato sabato pomeriggio vittoria 2-1 per il Pisa, una vittoria robusta e molto significativa per gli uomini di Inzaghi, una di quelle partite che credo possano fare anche un po' da immagine e da segnale di quello che può essere questa stagione per i colori di Nerazzurri. È stata una partita complicata, il Suttirol è una squadra che mi piace tantissimo perché è piena di veterani, gioca un calcio non moderno nel senso non si perde in troppi fraseggi, retropassaggi e castronerie varie del calcio attuale che ci propinano le tv e i santoni in giro, è una squadra difficile da affrontare per quanto sta facendo difficoltà, in questo momento sta avendo delle difficoltà nelle partite casalinghe, ha avuto un tight fantastico e credo che l'infortunio di tight sia stato proprio uno dei momenti chiave della gara, trovato il gol del vantaggio, recuperato poco dopo quando tight era appena uscito dal pareggio realizzato invece da Lind, il bomber schierato anche questa volta titolare da Inzaghi, Inzaghi in questo momento ha veramente una grande capacità di leggere la rosa e tolta quella partita in fausta contro Juve Stabia, per il resto diciamo che tutte le mosse del mister stanno realmente funzionando, Lind su assist del mio giocatore preferito di questo torneo di Serie B, ovvero Oyolt, ve l'avevo detto subito quando l'ho visto la prima volta, mi sono innamorato di questo ragazzo, Hulman, Morten Hulman, il giocatore del Lecce che ora gioca in Champions League nello sport in Lisbona, ecco Oyolt ha tutto per diventare il nuovo Hulman, giocatore incredibile, mille polmoni, recupero di palla, addirittura l'assist che porta in rete Lind, una prestazione favolosa già nel primo tempo nel quale il Pisa un pochino più di fatica l'aveva fatta, Pisa che invece viceversa ha giocato molto meglio la ripresa trovando poi il gol partita su un calcio di rigore moderno, un calcio di rigore che francamente mi fa schifo, posso dirlo anche senza mezzi termini, il povero Cepitelli tentava di rinviare il pallone, Moreo è molto bravo a mettere lì il piede, c'è il contatto, il contatto è netto, è evidente, ci mancherebbe altro, però da un punto di vista proprio filosofico francamente amici miei come questo possa essere un calcio di rigore mi sembra veramente incredibile, io credo che come è già accaduto altre volte qualunque tifoso se si vedesse assegnare contro un rigore di questo genere impazzirebbe, però è così, questo è il calcio di oggi e Arena è bravissimo a mettere in rete il penalty, il Pisa poi soffre relativamente, anzi ha le possibilità anche di mettere la partita in ghiaccio prima, nei minuti finali quando il Sud Tirol va con la doppia punta Odogvu e Merkai, io Odogvu un giocatore pazzesco, mi piace tantissimo la sua capacità di fare il reparto da solo, combattere su tutti i palloni, tenere su in maniera robusta la sfera, lo avvicina Merkai, la doppia punta, Merkai ha una chance fantastica sull'unica cosa buona che fa Martini, uno dei rari giovani del Sud Tirol e mi stava bene anche tenerlo in panchina e avere ancora Prasciarica al posto suo, sul lancio lungo di Martini, difesa del Pisa caracciolo, idolo totale per me come sapete un pomeriggio meno facile di altre volte, Merkai si intrufola ma la parata di Cemper è fantastica ed è un'altra prova di questo Pisa veramente ben costruito, ben guidato, un gruppo che c'è, primo posto, 22 punti, una situazione anche morale credo in questo momento veramente molto forte, il gruppo funziona, gli innesti funzionano, la rosa è notevole ed è sterminata perché Piccinini, eccellente fino ad ora in questo campionato, gioca un brutto primo tempo, ha munito e anche lì ragazzi la munizione è giusta perché sarebbe stato incredibile il cartellino rosso per un intervento totalmente involontario, però abbiamo visto dare cartellini rossi per molto 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 di meno rispetto all'intervento di Piccinini su Praserich nel primo tempo, Marchetti, credo le nomine internazionali ci saranno a fine dell'anno, Marchetti è un candidato a diventare internazionale, se questo è il livello, questa è la fotografia del lavoro di Rocchi, se Marchetti è il candidato per diventare arbitro internazionale io credo che non possiamo, possiamo anche non dire altre parole rispetto al lavoro che sta facendo il nostro disegnatore in questo momento, in questi anni. Piccinini come detto gioca un brutto primo tempo, comunque meno positivo del solito, esce e chi ti entra? Marin, un Marin nazionale, un Marin carichissimo che nel secondo tempo guida la squadra veramente con grandissima capacità, ma l'altra prova di quanto bene il Pisa stia lavorando è Rus, un giocatore del quale si sembrava non si sapesse più che cosa fare, è nato a Cipro addirittura la stagione scorsa, eccolo da titolare che gioca bene, a parte con la rimessa laterale assurda con la palla che gli è tornata indietro, però gioca con una grande quantità energia e trovo sia stato in questo caso anche uno dei migliori della partita. È un bel Pisa, è un bel Pisa da un punto di vista non del calcio champagne, di queste cose che personalmente almeno non mi interessano, ma è un Pisa efficace, è un Pisa che sa quello che vuole ed è un Pisa assolutamente in missione. Frosinone e Catanzaro le prossime due interessanti sfide, molto interessanti, Frosinone veramente in difficoltà anche di questa stagione, il Catanzaro che ho visto più volte e Caserta non ha ancora trovato la giusta quadratura della formazione che lo scorso anno era stata protagonista di un grandissimo torneo. Su Tirol sono tranquillissimo che farà un campionato solido e che potrà, forse manca un po' di cinismo lì davanti, meglio due punte che una, però è una squadra robusta, è una squadra che credo potrà fare molto molto bene, la vedrò anche la prossima gioca contro il Catanzaro e poi Frosinone, le stesse avversarie, praticamente le due formazioni che sono affrontate in questa sfida avranno le stesse avversarie nel corso delle prossime giornate. Primo Pisa, secondo Spezia, primo Inzaghi, secondo D'Angelo, due allenatori meravigliosi, soprattutto D'Angelo perché Inzaghi, devo dire la verità, come ci siamo detto fin dall'inizio, non sono tifosissimo ma sto apprezzando tantissimo il lavoro che sta facendo quest'anno da ogni punto di vista, di D'Angelo invece sono un grandissimo tifoso, come sapete. La prima stella della giornata va a Hoyolt, prestazione favolosa, la seconda a Tait, decisivo sul infortunio, la terza a Rus, vado con le mie pagelle in un click, poi attendo i vostri commenti, sei a Poluzzi, sei a Giorgini, sei e mezzo a Cepitelli che trovo abbia giocato bene, al di là della sfortuna, cos'altro possiamo definirlo sul calcio di rigore, perché se i ragazzi non possono più neanche tentare di respingere il pallone, già non possono provare a intervenire con la mano, non possono fare le entrate perché rischiano il rosso per ogni sospiro, ora non possono neanche tentare di spazzare il pallone, cosa faranno mai, a che calcio guarderemo? Il calcio balilla tra poco tempo, però sei e mezzo a Cepitelli, sei e mezzo a Maiello, sei e mezzo a Molina, sei e mezzo ad Arrigoni, qua è piena di gente che mi piace, Arrigoni nel como di Gattuso, è un giocatore favoloso, sei a Prajidic, sei a Rover, sette a Tait, sei a Casiraghi, sei e mezzo a Dogvu, sei a Davi, non mi è piaciuto, Merkai non mi è dispiaciuto, ma il gol, paratona di Schemper, ma doveva segnarlo, e Martini non mi è piaciuto, sei e mezzo a Valente. Per quanto riguarda il Pisa, sette a Schemper, un intervento decisivo, meglio di così, sette a Rus, cinque e mezzo a Manincuore a Caracciolo, che come sapete chi mi segue da anni è uno dei miei giocatori preferiti di tutta la categoria, però una giovanica, una settimana, un sabato un po' difficile per lui, sei e mezzo a Canestrelli, sei a Touré, cinque a Piccinini, sette e mezzo a Oyol, sei a Beruatto, sei e mezzo ad Arena, sei e mezzo a Moreo, validissimo a procurarsi il penalti, sette a Lind, sette a Marin, Tramoni così così che si è mangiato anche il gol, che ha sbagliato il gol, sette a Inzaghi, cinque a Marchetti, del quale vi ho già parlato, telecronica di Marrucci, amico mio. A parte tutte le parole del calcio moderno, vabbè, che un giorno farò un video anche su tutte le parole che non mi piacciono, che vengono usate nel calcio moderno, ma questo vizio di dire i punteggi delle altre partite non te lo riesci a togliere, quindi il voto per te è cinque. Grazie ragazzi, iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate, alla prossima ho ancora una sfida di B, del quale parlarvi. Ciao, baci!